Buongiorno a tutti, oggi è lunedì 16 dicembre, leggiamo il Vangelo secondo Matteo, capitolo 21, versetti dal 23 al 27. In quel tempo, entrato Gesù nel Tempio, mentre insegnava, gli si avvicinarono i sommi sacerdoti e gli anziani del popolo e gli dissero, con quale autorità fai questo? Chi ti ha dato questa autorità? Gesù rispose, vi farò anch'io una domanda e se voi mi risponderete vi dirò anche con quale autorità faccio questo. Il battesimo di Giovanni, da dove veniva? Dal cielo o dagli uomini? Ed essi riflettevano tra sé dicendo se diciamo dal cielo ci risponderà perché dunque non li avete creduto. Se diciamo dagli uomini abbiamo timore della folla perché tutti considerano Giovanni un profeta. Rispondendo perciò a Gesù dissero non lo sappiamo. Allora anche gli disse loro neanche io vi dico con quale autorità faccio queste cose. Ecco nel Vangelo di oggi troviamo l'accenno al battesimo di Giovanni. Lo fa Gesù mentre ricorda che le autorità religiose dell'epoca entrano in conflitto con lui in merito all'autorità. Questo episodio si verifica dopo che Gesù scacciò i venditori dal tempio. E appunto qui Gesù per rendere comprensibile che la sua autorità viene dal cielo, da Dio, porta l'esempio del battesimo di Giovanni. Questo accenno quindi oggi all'inizio di questa settimana terza di avvento ci ricorda l'autorità della predicazione profetica di Giovanni Battista che si concretizzò soprattutto nell'immersione di purificazione rituale che Giovanni mette in atto in vista della venuta del Messia. L'autorità di Giovanni, quindi il Vangelo ce lo mostra, le parole di Gesù ce lo esprimono, è sostanzialmente la grazia profetica che viene dallo Spirito Santo che riposa su Giovanni e che ha fatto sì che Giovanni sentisse come imminente la venuta del Messia e si mettesse a predicare anche attraverso questa azione rituale. L'autorità di questo uomo quindi era la forza di Dio stesso che lo spingeva a questa modalità di attesa. Ecco perché Gesù nel discutere sulla questione della sua autorità con i farisei e gli ischibili nel Tempio non risponde ma ricorda l'autorità del battesimo di Giovanni. Pone la questione di questo ricordo. Chiediamo allora oggi al Signore che attraverso questa lettura di questo Vangelo possiamo accogliere anche noi la grazia della profezia che ci permette di attendere con fede e speranza colui che viene a salvarci come ha fatto Giovanni. Il Signore della storia e dell'universo sceglie di farsi piccolo per insegnarci la vera autorità, quella dell'amore che si dora nella piccolezza e nell'umiltà. Buona giornata a tutti!